Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Meno di tre settimane al via del campionato, Campobasso permettendo, certo, con l'incognita della Coppa Italia, peraltro. Di sicuro, marchigiane di Serie C quasi pronte. C'è chi dal mercato non deve succhiare più nulla, come l'Ancona e la neopromossa re canatese. E chi invece, ad accavare dal cilindro, un bel po' di colpi, è il caso della fermana. Ripescata dopo la retrocessione, quindi partita in grave ritardo. Il direttore sportivo Massimo Andreatini, dopo aver preso Turissi dal Modena, Landere Onesti dalla Ternana, i giovani ex Ascoli Scorza e Luciani, sta accelerando per regalare all'esordiente mister Stefano Protti i rinforzi necessari al raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Potrebbero tornare in giallo-blu il portiere Simone Moschin e il centrocampista Giovanni Graziano. Dalla Pro Vercelli, invece, in arrivo due o forse tre pedine, incluso il difensore Giulio Parodi, classe 1997. Già detto dell'idea, Manuel Noccioline, l'esperto attaccante ora al Monopoli e in passato alla Samba, invia di definizione tre affari over con la Vispesero. Chiusi il terzino Alessandro Eleuteri, il centrale Stefano Pellizzari, il DS Andreatini sta stringendo pure per l'esterno Gabriele Denuzzo. Proprio la Vis, dopo l'infortunio di uno dei pilastri della squadra, vale a dire Manuel Di Paola, è a caccia di un altro colpo in entrata. Tra i nomi segnati sul taccuino, il 31enne Manuel Pucciarelli, emigrato in Astralia, e il 36enne ex-Mantova Mirko Bruccini. Intanto, sull'attaccante bianco-rosso Ahmed Sanogo, classe 2004, Gli occhi della Lazio e non solo.